Voi vedete là? Quella è Porta Ticinese medievale. Se andate, se fate il corso di Porta Ticinese arrivate in Piazza 24 Maggio e c'è la Porta Ticinese più recente, perché la città si è allargata. Quindi se uno parte dai navigli si fa la Porta Ticinese più recente, si avvicina fino a quella medievale, in questa zona c'era quella romana. Qui è scritto in fondo a San Babila? No, non è una Porta Ticinese romana, è d'attentuto tranne che è a San Babila, perché San Babila era dall'altra parte della città. Si chiamava Porta Ticinese perché aveva la strada che portava a Ticinum, che è l'antico nome di Pavia, quindi non poteva essere a San Babila. Anzi, non c'era una porta a San Babila perché c'era un'eterno. Allora era un'eterno. Ora, quindi della Porta Ticinese romana, che è ancora più arretrata, era in questa zona, voi vedete che non c'è niente. Non è vero. Lì vedete, questa era una delle due torri della Porta Ticinese romana, quindi a 2.000 anni. Questa anche io non sapevo che c'era. E' la prima cinta che oggi era a Milano? Ecco, diciamo, in questa zona la cinta massimiana e quella augustea si riunivano dopo che si erano allargate. mi sembrava giusto farvelo vedere. Non c'è tantissimo da dire. Però questa è la dimostrazione di come a Milano le cose sono abbastanza nascoste. se uno non lo sa... Ma sarà stata in pietra l'originale? No, era fatto così. La Porta Ticinese è l'originale. Come vedete anche la Porta Ticinese medievale non è di cose molto diverse. Non so. Far tutto di pietra era un po' problema. Era un lusso anche nell'antica Roma, solo che c'erano più soldi.